Cibsa, ancora Barak, Barak ha un buon sinistro, suggerisce invece per Lasagna, 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 sinistro, Lasagna! 2 a 0 Udinese, minuto 41, ancora Barak protagonista e Lasagna stavolta ha preso la mira, palla in buca d'angolo, non ha perdonato. Niente da fare per Brignoli, Udinese al massimo del cinismo, aveva controllato male, gli era rimasto indietro la palla, poi però il Mancino e Lasagna chiude il conto che aveva aperto con il Benevento, l'abbiamo detto, Benevento che gli aveva impedito l'accesso diretto alla Serie A.